Quanto vi fidereste a mettere la vostra vita in mano ad un'intelligenza artificiale? Da possessore di una Tesla, la mia opinione è estremamente positiva, salvo alcuni casi. Oggi però andremo a testare l'autopilota della mia nuova Porsche elettrica. Useremo vari oggetti alle mie spalle, che sono esattamente quelli, e faremo dei test a diverse velocità, 30 km orari e 60 km orari. Iniziamo subito con il test del cane. Adesso vediamo se metterà sotto il cane. Oh mio Dio, non si è nemmeno fermato! Ok, questo non mi fa ben sperare per i 60 all'ora, non l'ha minimamente visto per ora. Ok, test numero 2, Porsche contro cane, 60 all'ora. 60 all'ora perfetti, con l'autopilota, non sto toccando niente. Che botta!